Buongiorno per Notizia Abruzzo, siamo a Francavilla, alla Sirena, dove c'è una convention programmatica di Fratelli d'Italia con in compagnia di Antonio Tavani, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia per la provincia di Chieti. Allora, quali sono gli obiettivi, almeno per la provincia di Chieti, di Fratelli d'Italia? Beh, intanto aspettare questa ufficializzazione, far partire questa campagna regionale insieme agli alleati, visto che ciascuno di noi già si è organizzato in maniera importante sul territorio. A Chieti stiamo costruendo una lista assolutamente competitiva, che cercherà di rappresentare non solo la vastità della nostra provincia, ma soprattutto tutte le sue problematiche, il problema delle strade, della sanità, delle aree interne, che nella provincia di Chieti in particolare sono tematiche assolutamente molto sensibili, sulle quali l'elettorato è stato già sensibilizzato in maniera importante. Lei è stato anche sindaco del comune di Farra San Martino, ma è anche imprenditore. Ecco, in questa duplice veste, che cosa ci può dire e quale sarà la sua idea di programmatica per la provincia di Chieti? Io non dimentico mai, ricordo sempre ai miei colleghi delle altre province, che la provincia di Chieti comunque esprime il 40% del PIL regionale, ha delle eccellenze non solo nel campo della manifattura, dei prodotti agroalimentari, ma anche nel campo dell'automotive e dell'indotto. Questa realtà va sostenuta con interventi importanti, sia sulla rete stradale secondaria, ma soprattutto sulla rete infrastrutturale, pensando e considerando che la situazione delle infrastrutture in Abruzzo è da terzo mondo. Noi ripetiamo spesso che vogliamo un Abruzzo accessibile e questo Abruzzo deve essere accessibile dal punto di vista portuale e noi porteremo all'attenzione di tutta la regione il sito, il polo logistico portuale di Ortona, che per noi rimane centrale, quello ferroviario con una ferrovia da terzo mondo che ci porta a Roma e quello aeroportuale. Io credo che infrastrutture, rete stradale, sanità tornano a essere delle risposte in termini di economia, di posti di lavoro e di rilancio motivazionale dell'intera regione. Fine sulle piccole imprese invece? Le piccole imprese hanno il problema del credito, hanno il problema della logistica, hanno il problema della visibilità dei marchi e credo che vadano supportate ad arrivare a creare le reti sempre di più e ad arrivare sui mercati che oggi la globalizzazione e internet ti permettono. Bene, ringraziamo Antonio Tavani di Fratelli d'Italia, esponente provinciale, anche coordinatore, candidato anche per le regionali. Grazie a lei e buon lavoro.